Amici di Marci Games, bentornati su Golf. Oggi Ben Art mi ha dato un'idea bellissima perché mi ha detto Marci fai Golf ma solo uno può far buca e io ho deciso di mettere una regola mia. Solo uno può far buca, quindi il primo farà in modo che gli altri debbano rinunciare, a meno che stiano già nel tiro stesso. Ma alla fine si capiranno le squadre, cosa vuol dire? Che ci sarà un sorteggio e se viene fuori Marci da solo e Nico e Loco assieme, Nico e Loco dovranno fare il loro punteggio massimo, la somma del loro punteggio massimo, diviso due. Quindi bisogna stare attenti ragazzi a buttare fuori uno, non buttare fuori l'altro. Bisogna giocarsela, secondo me, nella maniera più corretta possibile. Quindi vi direi 3, 2, 1, si inizia. Ma hai detto inizia quando ero storto, non ci credo. Attenzione! Io ho già tirato eh? Cavolo, niente, rinuncio alla buca. Va bene Loco, va bene. Va bene Loco, va bene, va bene Sbren, va bene. Va bene, non ti preoccupare, stai tranquillo che... Ma tanto potremmo essere insieme alla fine, quindi... Ma porca paletta. Devi dire via! Ognuno va quando vuole ragazzi, cioè... Ma sto continuando a tornare indietro, raga! Raga! Ma ha fatto ino buca Sbren. Fatta! Ma veramente raga, non ci posso credere. Non è, non è, non ci posso credere. Non si è paure, si direbbe in francese. Si è paure, va bene, va bene. Ehm, va bene, no, no, va bene Loco, non ti devi preoccupare. E' questa la buca? Non lo so, ma l'ho mancata. Vici, veloce, veloce, respawna, respawna! Respawna! Mi ha mancato tutti tanto. Fermati zio, fermati. Dai, ma sono caduto dall'inc... Ok. Ho già tirato, ho già tirato, ho tirato io, avevo già tirato. Ho visto, ho visto. Mamma mia. Ma se facessi malus, io le rinuncio tutte. Chi è con me ha perso? Te lo so da solo. No, 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 devi giocare serio, devi giocare serio, devi giocare serio, devi giocare serio. Eh, se no tanto vale, ok. Il malus umano è carino come ruolo, eh. Ok, dov'è? Ok, lì. Ferma, 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 ferma! No, dove siamo? Ferma! No! Vai Loco, tira, Loco, tira! L'ho già tirato! Sto clown di Loco's Black Nix. Eh, che sto tirando io, ha vinto Nico. Ma cosa ho vinto? Che sto scendendo la collina qua degli dei dell'Olimpo, di Pollon. Secondo. Pollon combina, guai. Ma guarda dove sono finito, dai. Ah no, Beccatoni, no Marci, no, adesso no. Ah! No, sono uscito! No, no, sono in buca! Devi tirare il volo, ho tirato il volo. Eh, non ce l'ho fatto, ho provato. Rinuncia la buca, va bene, raga. Non c'è la buca, va bene, raga. Siamo tutti lì alla fine, comunque. Siamo tutti in tranne Sbrubbolochis. Ma che salto ha fatto quello? Eh, anche tu puoi farlo, zio. No! C'è il salto? No, non c'è il salto. Ah, vabbè, ho capito, in quel senso, con i target. Vai, quanto è lunga sta cosa. Ma ci citta, guarda. Non ci posso credere. Non puoi deserto. Mamma mia che citta! No! N'è vero! Non è vero! Ha vinto Rocco. Non è ancora detta. Ha vinto Sbracknex. Fatta! Anch'io ho tirato, eh? Nico, beccami! Nico, beccami, ti prego! 20 chilometri dietro. Vai! Non è andata. Ci sta. Sbracknex oggi più... Io comunque lo dico l'ho citata tutta. Eh, va bene. E ci sta. Se potevi farlo... Intelligenza, intelligenza. No, se si poteva fare, alla fine ci sta. Ma che è sta mappa? Dove devo andare? Perché non mi ha fatto andare di là? No, devi andare lateralmente. Ma non fa. Sì, sì, fa, fa. Come non fa. Ma vada la parola, fa, fa... Ah, ci smetti di toccarmi! No, loco. No, loco, no, 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 loco. Non ci stiamo bagati. Non posso far niente, non posso muovermi. Io ci stiamo bagati a vicenda. Dai, che magari se non giocate la vinco uno. Ecco, che fa. È un attimo, ancora no. Ai, loco, vai, tira. Eh! Io buca! Non è vero, loco entra. Ma? Dovete entrare assieme? Oh, buca, fatta! Fatta! Vinto! Ehi! Dovevi rimbalzarlo, loco, lochis? Dovevi andare su e giù? Non ci voleva. Non ci voleva. Mi dispiace, loco, lochis? Ho rinunciato. Io ho già rinunciato, ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, sui dati al Games Week fatemi una lettera che ho scritto che vi dispiace. Per favore, grazie. Ah, non ero pronto. Oh, mio Dio. Che idioti. Io sono strettamente scammato. Comunque, loco è incredibile come lui aspetta a fare cose con calma. Tanto sbagliato! No! Fatta! Ma non ci credo. Ma dai, ma sono uscito dalla buca. Ma vai a quel paese. Oggi sto giocando davvero, davvero male, ragazzi. Veramente male. Proprio contro il mio onore. Veramente. Mi sento bene. Eh, sei più bravo di noi, loco. È un dato di fatto. Bravo di voi, non è vero. Ognuno è bravo a modo suo, dai. La buca qua. Ah, lì in mezzo. Ma perché tu? Te, colpisci qualcun altro, dai. No! Fatta! Ho tirato! Non ci credo. Sì! Sì, ho visto. Marcia tirata. Marcia, no, ho visto che ha tirato. Mamma mia. Al pelo, però, eh. Era veramente al limite, era veramente. Mamma mia. Oggi confermare per ammata Marci. Mamma mia, ragazzi. È il limite proprio. Comunque bisogna guardarla per forza. Io qua me la faccio con calma. Dico no, dico va. Io sto facendo la loco, raga. Metodo intelligente. No, loco, dove cacchio ci sta portando? È il culo trasportatore. No, mi ha portato giù di nuovo. Fatta! In velocità non ho molta skills, raga. Posso dirlo la verità? È vero. Lato di fatto. Preferisco giocarmela molto con calma, io. Devi studiare tutto qua. Si studia. Come a scuola. Luca, dov'è? Non la vedo manco io, sinceramente. Ma dov'è, raga? Ma l'avete vista voi? No. L'hai vista tu, Rocco? No. Tre tizi che cercano una buca? Io sono in fondo, ma non capisco mica, raga. Non è tipo uno dei sacchetti qua, vero? No. Ma ti fai spoloso se sei sulla barca? Sul legno? Sì. Raga, non ho più la visoria libera. Ah, forse sulla prua. No, non so come si chiama. Non ci si può arrivare. E come arrivi, mi dico? E ti dà il busto, li vedi? Ecco, 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 ecco. Ah, ho capito. Ma a me lo ha dato il busto. Dai, Marcio, aspetta, mi facciamo il tiro insieme. Uno, due, tre. No, no, io non sono... L'hai fatta, vero? Sì. Scusa, pensavo fossi fermo. Eh, devo un colpo a Nico, ragazzi. Devo un colpo a Nico. Eh, raga, è la verità. Devo un colpo a Nico. Devo un colpo a Nico, ok? Tradimento è una cosa peggiore. Non è tradimento. Io ho chiesto... Non viene mai dal nemico. Io ho chiesto scusa, eh, fino a... Ma dov'è la buca? Io non mi piace questa mappa, posso dirlo? È bella! No, non capisco niente! Ma dov'è la buca, raga, scusatemi? Fermati, pallina! Povera pallina ha perduto la compagnia. Non c'è arrivata! Non c'è arrivata! Anche io! Tira veloce prima. L'ho superata! Non c'è arrivata! Ah, mi si blocca la pallina! Veloce, veloce. Oddio! Ho tirato, raga. Entrato... Ora! Sì, sì, vale! Vale, oddio! Sbren, solo tu! Sbren, già due di fila, ragazzi, eh. Vogliamo fare il comeback, io, Kutzers. No, 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 niente comeback. Ok, quindi qua, di qua. Bisogna andare di qua. E chiaramente io non ci sono manco arrivato. Cioè, veramente, comunque. Ma che cavolo! Non cadere! Ma non cadere! Ma perché devi cadere? Ma da qua? Diventare lì sopra, secondo me. Eh, ci sono sei persone davanti a me. Chi m'ha beccato? Una steccata! Ma raga, ce l'ho io davanti? Chi m'ha beccato? Ma non è vero! E lui davanti? Sono tornato indietro. Fatta! Eh, ma raga, io non ho manco potuto tirare, zio pera! Oh! Chi m'ha beccato? Chi è che ha scelto sta mappa? Io ho davanti a tutti, comunque. La scelta Bernhardt. La mappa? Ah, no, quella l'ho scelta io. Ho aggiornato Fortnite. No, la mia parte sempre in ritardo. Ma perché? Un po' perciò, cioè, dell'acqua, perché? Buonasera. 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 Ancora no. Vai, che non smetto di girare. Fatta! L'ho continuato, ma... Mi aspetta, va bene, tranquillo. Si avrete in tempo e voglio vedere chi si diverte. Eh, no, Nicola, ma non ti ho visto che lei lì, scusa, mia. No, ma ti ho visto, ma ti ho visto. Io non ti ho visto queste cose. Io vi sto recuperando, non va bene questa cosa. Ma chi è che ho beccato, raga? Ho beccato qualcosa che non... Ho stupato tutto. No, non fammi cadere, sono caduto in acqua, ma perché mia sfortuna è così elevata? Fermati, fermati, fermati. Raga, fortuna questo, sappiate. Ecco, ma c'è fortunato, guardatelo. Ma zio, ma non riesco a fermarmi lì. Non riesco a manco a arrivarci. Capuzzola. Ragazzi, l'ho fatta. Non sei ancora entrato? Fatta. Forse Nicola fa. Nicola fatta. Nicola fatta. Quando c'è di mezzo alla fortuna, non vinco mai. Ma Nicola è loco, siamo lì comunque, non è che c'è molta distanza. Sono io il game changer. In male, ovviamente. Sì, perché? È scarso. Ricordiamo che è sempre loco la vittima, comunque. Chi è ma beccato? E mi ha colpito. No, ma ci è beccata di vicenda. È entrato? Fatta. Di cosa si lamenta? Siamo beccata di vicenda. Non lo fa tentare. Fatta. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Non ci credo. Non ci posso credere. Mamma mia, ragazzi. È devastante questa cosa. Ma io non capisco. Perché Marce è passato? Zio, sono rimasto qua sotto, io fino a prova contraria. Tu sei davanti. No, no. Ah, io già riusci ho capito qui. No. No, che cosa brutta hai fatto? L'ha fatto apposta, sappi, lo è entrato. Allora, non l'hai fatto apposta, dai. Io ho usato come angolo. No, no. Ragazzi. Ragazzi. Poi mi dite a me che non devo buttare fuori loco. Questa cosa è brutta che è successo. Io non ti ho buttato fuori apposta. È veramente brutta. È usato come angolo. È veramente brutto, ragazzi, quello che è successo. Davvero brutto. Mi dispiace molto perché queste cose a me non mi piacciono. Io nico, stiamo andati a quel paese. È giusto. Dai, sono stortissimo. Io ho tirato, eh. Sono tornati indietro, raga, non ci credo. Ciao. Non è abbastanza. Anche tu qui. Eh, ma ci ti piace. L'ho sentito anch'io. Dai. Poi nessuno va a fare, secondo me. Ma io dico una cosa. L'hai fatto? No. Continuo a cadere in acqua. L'ha fatto amarci. Fatto. Eh, ma è nove colpi. Beh, nove. Più nove, fai giotto. È tutto. Si gioca tutto alla classifica finale, ragazzi. Me la voglio giocare. No, secondo me questa non è buona. Ma come faccio a sapere qual è quella buona, ragazzi? Scusate. L'ho quella fatta, vero? Non è vero, no. Ma raga, ma... Ma non ce n'è una buona. Vedete che è la prima. Fatta! Oh mio Dio! L'ho fatta saltando! L'ho fatta anch'io. Ah, quindi cittandola pure. Ma come? In che senso? Oh, scusate, ho tirato. Mi fermo. Non ho capito qua. Ah, era da far così, va bene. No, non è da far così, c'è una buca giusta. Ah, fa niente, però l'ha fatta. Allora, tenete a mente il vostro. 261 Nico, 174. Ok. Ora farò un random, ok? Vado sul sito, da 1 a 3. Dite un numero, scegliete il vostro numero. 2. Tu cosa hai detto, loco? 3. E io 1. Quindi vediamo. Il primo decreta la squadra in coppia. Numero 3. No! Con il numero 1. Sì! È tutto aperto, ragazzi. Allora, quanto hai fatto, loco? Ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo vinto per forza. Abbiamo vinto? Sì, abbiamo vinto per forza. Non perdo la partita, raga, non ci credo. Vittorie entrambi. Che cugolo. Grande magia, bravissimo. Mamma mia, ragazzi. E che davo io. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi ci vediamo in un prossimo video di golf Da Marcio è tutto, ciao